Le strade di Trapani raccontano secoli di storia attraverso i nomi dei personaggi che hanno lasciato tracce in città. Personalità, luoghi e toponomi che portano indietro nel tempo, ripercorrendo le tappe della Trapani nei secoli, che Giuseppe Romano, assieme a Salvador Accardi, ha raccontato nel libro A Spasso per Trapani, che questo pomeriggio sarà presentato a Palazzo Dalì. Ed oltre a parlare del passato, i due autori hanno anche proposto di titolare una strada a Carlo Accardi. Noi vedendo che c'è una carenza, un po' dappertutto però, non solo a Trapani, di vie o luoghi comunque intestati a personaggi femminili, abbiamo preso la palla a Palazzo e abbiamo proposto subito di dedicare una via, uno spiazzo o qualcosa alla trapanese Carla Accardi, pittrice di fama internazionale, però noi pensiamo poco conosciuta comunque dai trapanesi. E perché noi diciamo a quanto le nuove denominazioni? Perché negli anni 70 ci fu un tentativo di ridenominare parecchie vie che erano quelle dedicate alle piante, via del legno, via del mandorlo, via dell'uva, e dedicarle a personaggi giapanesi che non hanno trovato il loro posto nella toponomastica giapanese. Grazie. Grazie.